Evitate di prendere mezzi privati, è l'appello lanciato dal comune di Salerno in una conferenza stampa questa mattina a tutti i cittadini in vista dei possibili disagi legati ai festeggiamenti per il santo patrono del 21 settembre. La processione, il concerto di Renzo Arbore e lo spettacolo finale dei fuochi d'artificio hanno reso necessario l'utilizzo di particolari dispositivi di traffico. Alle disposizioni tradizionali si aggiunge un divieto in più, quello su Piazza della Concordia, che sarà utilizzata per l'allestimento del palco relativo al concerto di Renzo Arbore e sarà quindi non utilizzabile per il parcheggio delle auto. Sarà un San Matteo di lavoro intenso e straordinario per i vigili urbani, come è riferito dal comandante, saranno 100 quelli al lavoro. Un San Matteo ricco da questo punto di vista, molto festoso, perché oltre alle abituali iniziative che si risolvono nella processione molto partecipata, ci sarà anche un concerto di Renzo Arbore in Piazza della Concordia, ed un importante spettacolo dei fuochi d'artificio. Ci saranno tre colpi, uno migliore dell'altro, che credo faranno affluire una grande partecipazione di pubblico. Ci stiamo ponendo in problema con il comandante di vigili urbani, con il nostro responsabile della sicurezza, con l'assessore alla viabilità, per mitigare al massimo i problemi della viabilità. Dopo l'assessore Di Maio vi darà una serie di raguagli tecnici, insieme al comandante, per spiegare che cosa abbiamo immaginato. La richiesta e la sollecitazione che io faccio ai miei concittadini è di evitare di prendere la macchina. Sarà in una città interamente pedonabile, tutto si svolge nella zona centrale della città, quindi si può fare tutto tranquillamente a piedi. Venire in macchina... È realizzato un prolungamento del servizio della metro, visto che è considerato che non sarà possibile parcheggiare e nemmeno camminare con l'auto? Sì, questo ci vedremo anche a Di Maio, ma il problema è sicuramente che bisogna evitare di prendere mezzi privati. Bisogna evitarlo. Detto questo, ci sarà uno spettacolo molto bello di fuori d'artificio, c'è Genso Arbore che fa sempre la grande attrattura e quindi vedremo. Sarà una giornata particolarmente intensa e abbiamo stimato intorno alle 100 unità da impiegare per l'intero arco temporale che interessa la manifestazione. Perché naturalmente la preparazione anche dell'evento, soprattutto la processione religiosa, richiederà comunque un'attività anche di sgombero dei tratti di strada interessati dalla processione. Poi naturalmente il piano traffico che ha illustrato l'assessore è un piano traffico che cercheremo di gestirlo nella maniera più dinamica possibile. Nel senso che, come diceva l'assessore, il piano traffico per quanto concerne la processione di San Matteo dovrebbe partire intorno alle 16-17 con la chiusura del tratto interessato e riaprire poi al termine della processione o comunque forse un po' prima perché nel momento in cui il corteo sarà all'interno del centro storico cercheremo nel più breve tempo possibile di riaprire la zona interessata dal blocco, anche perché poi sarà necessario spostare i blocchi di cemento posizionati, diciamo quelli antiterrorismo. E intorno alle 20 dovremmo procedere alla chiusura di piazza della Concordia che, come spiegava l'assessore, serve soprattutto per assicurare i più elevati standard di sicurezza per tutti coloro che vorranno partecipare all'evento e quindi assistere al concerto.